Benvenuti in questo video. Iniziamo con questo primo video ad illustrare l'installazione e la configurazione globale del componente K2 nella versione disponibile 2.5.1 che si può installare su Joomla 1.5 e le ultime versioni. Andate sul sito getk2.org e cliccare su download k2. Poi andate su k2 translations, andate su italian e scaricate il file zippato. Fatto ciò andiamo in estensione di Joomla, sfoglia e andiamo ad installare k2. Attendiamo Adesso che è stato installato andiamo a renderlo italiano. Gessione estensioni, la traduzione che abbiamo appena scaricato, eccola qui, languagepec, apri, carica file ed installa. Adesso andiamo su gestione componenti e andiamo a parametri k2. Questa che vedete in questa finestra, composta da alcune schede, andiamo a definire globalmente i parametri del componente. Questi parametri in sostanza si chiamano globali perché una volta stabiliti, impostati, possiamo anche fare in modo che siano i stessi parametri che verranno utilizzati per tutte le categorie che andremo a creare, che andranno ad ereditare, quindi a prelevare, le loro caratteristiche, le loro opzioni e i parametri da questi parametri che adesso andiamo a stabilire. Qui adesso possiamo stabilire i parametri delle categorie, di come verranno visti gli articoli, verranno visualizzati, come impostare la visualizzazione del singolo articolo o degli articoli provenienti da uno o più categorie e così via. Iniziamo da impaginazione. La prima opzione potete solo stabilire abilita, CSS per definito di k2, andiamo avanti. Opzione della impaginazione e della visualizzazione per le pagine degli utenti, quindi c'è quando noi vediamo l'avatar di un utente e vogliamo vedere cosa ha scritto, quale articolo ha pubblicato, eccetera. Allora qui andremo poi a definire i parametri della visualizzazione proprio della pagina utente. Nome, mostriamolo, mostriamo anche l'avatar se l'utente ha trasferito, ha aggiornato il proprio profilo con un avatar. descrizione, mostriamola, url, cioè il link, se ha un link l'autore, un'email, nascondiamola per evitare spam, link rssci, anche l'icona, condergio articoli nella pagina utente, cioè quante articoli massimo, mostrare, mettiamo 5, titolo dell'articolo che ha scritto, mostra, link sul titolo dell'articolo, cioè trasformare il titolo anche come un link cliccando sul quale si va direttamente l'articolo. Data e ora di creazione dell'articolo, mostriamola. Mostriamo anche le altre opzioni, leggi tutto, eccetera. Adesso invece impostiamo il layout, la visualizzazione, degli elenchi tag. Insieme a K2 vi sono vari plugin che poi andremo a usare nei prossimi video. Plugin che mostrano per esempio i tag usati nel sito, quindi noi possiamo farli mostrare. Ora possiamo conteggiare il numero degli articoli per elenco tag, 10, titolo dell'articolo mostriamolo, link sul titolo dell'articolo mostriamo, va bene anche gli altri potete lasciarli. Cambi aggiuntivi dell'articolo nascondiamoli, poi vedremo cosa sono i cambi aggiuntivi. Ordinamento articolo per le liste dei tag predefinito e mostriamo anche i feeds. Opzioni di immaginazione e visualizzazione per ricerca, tag e lista per data. Al mio consiglio è di fare tutto su mostra, tranne cambi aggiuntivi dell'articolo. Andiamo invece sulla scheda contenuto. Vediamo come definire il contenuto. Noi nei contenuti possiamo mostrare per esempio un'icona RSS, cliccando sulla quale l'utente potrà iscriversi al nostro servizio e quindi essere aggiornato sui nostri articoli. Possiamo limitare un numero di feed da mostrare, mettiamo 10 massimo. Se i feed racchiudono ovviamente gli articoli, questi articoli hanno un'immagine. Possiamo mostrarlo almeno nei feeds. Mettiamo nascondi. Dimensione immagine per gli articoli dei feed. Mettiamo piccola. Testo introduttivo dell'articolo mostriamolo. Limite le parole dopo le quali si mostra il titolo leggi tutto. Mettiamo 50. Testo completo mostra e gli altri mettetele su no, perché nell'ambito dei feeds non sono operazioni necessarie, funzioni necessarie. Poi per gli altri lasciate tutto come sta. Immagini. Possiamo definire anche globalmente come verranno trattate le immagini al componente. Noi quando per esempio creiamo una categoria, come vedremo, possiamo impostare un'immagine che distingue quella categoria. E questa categoria quando la andremo a visualizzare nel sito, possiamo definire come venga mostrata questa immagine. Se è grande o media, eccetera. Qui possiamo stabilire come deve essere il numero di pixel, ovviamente. Quando è grande, quando è piccola, quando è media, quando è x small, molto piccola. Per esempio, in alto, nella prima opzione, qualità usata per processare le immagini. Mettiamo 100%. La larghezza dell'immagine quando è x small, piccola. Mettiamo 100 pixel. La larghezza dell'immagine piccola, 200. La larghezza dell'immagine media, raddoppiamola, 400. La larghezza dell'immagine grande, 600. La larghezza dell'immagine x large, 900. La larghezza dell'immagine dell'articolo utilizzata nella pagina utente, 300. Mettiamo però qui, più piccola, 200. La larghezza dell'immagine della categoria, cioè che distingue non l'articolo ma la categoria, 100. Immagine sostitutiva che si può mostrare nelle categorie quando non c'è l'immagine della categoria. Mettiamo nascondi. E anche immagine sostitutiva per l'utente se non esiste qualcuna. Cioè l'immagine a posto dell'Avatar, mettiamo nascondi. Se non c'è l'immagine noi la facciamo visualizzare. Andiamo su commenti. Parametri globali per i commenti. Se abbiamo abilitato la registrazione degli utenti nel nostro sito, possiamo fare in modo che i commenti e gli articoli vengano postati solo dagli utenti registrati o da tutti. Ovviamente se abbiamo stabilito la possibilità di registrazione degli utenti, possiamo evitare spam abilitando solo gli utenti registrati. Ordinamento dei commenti, i primi e più recenti. Massimo C10. Posizione del modulo dei commenti sotto all'articolo. Abilita l'autopubblicazione degli articoli. No, in modo che una volta pubblicato l'articolo poi arrivi all'amministratore e poi sarà lui a doverlo approvare. Segnale i commenti abilitato solo per gli utenti registrati. Cioè, segnali i commenti all'amministratore. Qui possiamo mettere sotto dove c'è scritto destinatario del rapporto sul commento, l'email dell'amministratore. Abilita la moderazione dei commenti, sì, in modo che l'amministratore possa pubblicare o meno un commento. Possiamo anche abilitare il recapcia, cioè fare in modo che l'utente debba inserire prima il famoso capcia, cioè un codice per poter inserire poi il commento. Per fare questo dobbiamo andare sul sito di recapcia di Google. Se andiamo un attimo mettiamo recapcia, andiamo su recapcia.net, qui ci possiamo registrare. Io ho già un account e per esempio facciamo add new site, il nostro sito, lo inseriamo e andiamo a prelevare la public key usata per il sito, diciamo per il sito. Poi vedremo come inserirla successivamente. Una prima cosa è che dobbiamo registrarci e ricevere un public key e una private key. quindi una volta fatto ciò, qua possiamo inserire le note del modulo dei commenti, possiamo inserire un messaggio da far mostrare all'utente quando vuole rilasciare un commento. Per esempio noto illegali, modifiche da frontend, abilità da modifiche da frontend, per gli utenti registrati, sì. Poi, funzione galleria immagine, modo di modifica, mostra, mostra, facciamo tutto mostra. Andiamo su avanzato. Nascondi i pulsanti tra le varie attenzioni, quella più importante, mettiamo solo qualcuna. Nascondi i pulsanti per l'importazione dei contenuti Joomla, no. E poi, andiamo nella funzione configurazione andispam. Mettiamo con la famosa chiave pubblica che abbiamo visto prima, Recaptcha. E mettiamo anche la chiave privata, che è questa, private key. Andiamo ad inserire, abilità Recaptcha nel form di registrazione, per gli utenti che si vogliono registrare. Salviamo e chiudiamo. E abbiamo impostato, ovviamente, globalmente le varie categorie. Ora, prima di finire questo video, andiamo ad importare, andiamo qui su articoli, facciamo Importa il contenuto Joomla. Adesso ci ha visto che sta per importare tutte le sezioni, le categorie e gli articoli Joomla. Facciamo OK. Ed ecco tutte le categorie che avevamo nel nostro Joomla e gli articoli. Ora, nel prossimo video, vedremo come impostare una categoria e visualizzare gli articoli in formato blog. È tutto, grazie, e al prossimo video. Grazie.